Riduci il gonfiore addominale, abbassa il colesterolo ed espelli tutti i liquidi in eccesso. Con questa tisana estiva rinfrescante e dissetante, si prepara così. Prendi le bucce di mezzo ananas, lava bene, e mettile in un pentolino. Quindi aggiungi un rametto di cannella, e infine un litro e mezzo di acqua. Lascia cuocere per 8 minuti, poi fai raffreddare e aggiungi il succo di 2 lime. Fatto, conserva in frigo, e bevi una volta al giorno. Oltre a fare bene è buonissima, e molto, molto dissetante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.